Ciao a me Giovanni Padamon, bentornati sul mio canale e bentornati in un nuovo video. Come avete visto si tratta di un video Q&A e probabilmente vi starete chiedendo ma come sparisci per così tanto tempo e poi anziché comparire con una lezione o un contenuto violinistico te ne vieni fuori così con un Q&A? Sì, questo per sbagliate ragioni, intanto perché comunque dovevo uscire il Q&A di settembre e poi perché avrete notato sono stata assente per un periodo molto più lungo rispetto ai miei standard e questo è dipeso da una serie di vicissitudini familiari abbastanza importanti ma avevo voglia di tornare, avevo voglia di riprendere e mi sembrava il modo più semplice per farlo. Sono successe un po' di cose quindi la ragione della mia assenza è legata al fatto che appunto sono successe delle cose di cui ho parlato in un video dedicato agli abbonati, la ragione per cui non ne parlo pubblicamente è che credo che sia poco necessario, mi sembrava corretto dare una spiegazione agli abbonati perché comunque pagano proprio contenuti esclusivi e contenuti non ne stavano venendo fuori, ma non è un segreto di stato, non sta succedendo niente di chissà che, non vi agitate, non vi preoccupate e anzi sono anche contenta di mantenere un po' questo riservo perché come probabilmente avrete notato sul canale parliamo di tantissime cose, io sono me stessa, ci metto tutta me stessa però tendenzialmente dei fatti miei personali non ne parlo, non perché abbia chissà quali segreti da mantenere ma semplicemente perché intanto credo che questo non sia il contenitore giusto per farlo e poi perché qui io sono esattamente quello che sono nella mia vita di tutti i giorni, nella mia vita di tutti i giorni sono una persona riservata quindi a maggior ragione rispetto a questo contenitore, quindi tutto questo per dirvi che mi scuso se sono stata assente e tornerò più a piano più forte e più carica di prima anche perché fra una decina di giorni arriva ottobre e quindi si parte con il nostro super calendario, quindi la settimana prossima vi dirò un po' di cose e vi ricordo prima di addentrarci come sempre nel nostro Q&A che giovedì, cioè dopodomani alle 21 ci sarà la nostra live. Detto questo, con il piccolo snupino qui al mio fianco che sonnecchia, direi che possiamo iniziare con questo Q&A in cui ho raccolto un po' di domande, diciamo ho cercato di mantenere in questo caso un po' la stessa linea, lo stesso filo conduttore, nel caso specifico parliamo delle lezioni di musica in generale e proprio perché non sono usciti contenuti esclusivi ci saranno due domande specifiche che non hanno a che fare invece con le lezioni di musica ma hanno a che fare con il mio libro che potranno vedere in un video dedicato soltanto gli abbonati alla fascia giovane Padawan, quindi ci rimettiamo un attimo in pari. Ma vediamo a noi, entriamo, le ho raccolte questa volta qui, la prima domanda me la fa Roberto che mi chiede, preferisci fare lezioni online o in presenza? Allora, preferisci fare le lezioni online o in presenza? Sono due cose molto molto diverse diciamo che il lato di me più tanto folaio preferisce le lezioni online perché posso farle da casa o se non da casa le posso fare dove mi trovo in quel momento, quindi a volte mi capita magari di essere fisicamente a scuola e poter inserire delle lezioni online oppure non lo so, mi è capitato spesso durante queste state di fare lezioni tipo dal mare o dovunque io mi trovassi, quindi hanno questo tipo di praticità che mi piace molto e mi piace particolarmente l'inverno quando fa molto freddo, io soffro tantissimo il freddo io sono di quelle che amano il caldo anche se ci sono 50 gradi, siccome soffro il freddo il fatto di poter stare a casa con la copertina di paella addosso, gli alunni e le alunne più storiche mi hanno vista tipo anche con la vestaglia di Snoopy addosso, quindi insomma proprio adoro, poi adesso che c'è Snoopy mi piace quando sono a casa il fatto che lui si metta vicino a me tipo in questo momento o sul suo cuscino nel mio studio a fianco a me insomma la dimensione domestica è molto bella e confortevole, di contro mi piace comunque fare lezioni in presenza perché mi rendo conto che essendo una persona molto dinamica ho bisogno di fare cose, quindi sì mi piace questa cosa di fare lezioni online però non la potrei mai fare tutti i giorni della settimana, quindi mi piace il fatto di uscire di casa di stare magari in un ambiente in cui ci sono i miei colleghi, per esempio quando sono a scuola allo studio musicale Arturo Toscarini che è la vostra scuola, c'è Federica che fa lezioni negli stessi giorni, quindi magari facciamo una pausa caffè insieme poi facciamo suonare insieme agli allievi, è una dimensione diversa che mi piace molto questo ovviamente diciamo che funziona se funziona l'ambiente, quindi se sto bene nell'ambiente della scuola eccetera non è una cosa sempre scontata, quindi preferisco quelle online o quelle in presenza, non lo so cioè mi piacciono tutte e due per ragioni diverse e come forse ho già detto tante volte mi piace il fatto di poter fare il mio lavoro come lo faccio io, quindi facendo tante cose diverse perché questo mi mantiene viva, quindi pensare di scegliere una delle due cose cioè se dovessi fare tipo lezioni online tutti i giorni, sei giorni su sette probabilmente sarebbe too much invece il fatto di fare un po' e un po' mi piace particolarmente quindi la mia risposta è che mi piacciono tutte e due, non ho una preferenza poi Andy94 mi chiede hai un alunno preferito? per quanto noi insegnanti ci sforziamo di essere super partes non dico di non affezionarci ma di affezionarci il giusto di essere equilibrati, di trattare tutto allo stesso modo ecco magari queste sono tutte cose che riusciamo a fare però siamo comunque esseri umani quindi come in tutti i rapporti umani c'è quella sensazione a pelle che ci dà delle vibes diverse lo stesso vale per l'insegnamento quindi se sentite degli insegnanti dire che non hanno allievi preferiti stanno mentendo sì, ho chiaramente un'allieva preferita una femminuccia nel caso specifico è inevitabile perché poi ci sono anche dei vissuti nel caso specifico sto parlando di un allieva con cui vado d'accordissimo con un bellissimo rapporto che seguo da tantissimi anni ho un bellissimo rapporto anche con la sua famiglia proprio quando ho letto questa domanda la prima volta mentre la scrivevo mi è venuta immediatamente in mente lei ovvio che ho d'accordo con tutti i miei allievi ce ne sono alcuni con cui ho un rapporto umano molto molto forte non è che mi taffa l'it parade degli allievi ecco questo no così come sono certa di non trattare questa allieva in particolare diversamente rispetto a come tratto gli altri però sì, inevitabilmente noi esseri umani siamo così ma non è che non ci esco la sera non faccio niente di diverso rispetto a quello che faccio con gli altri però in cuor mio posso dire che so che effettivamente è così ecco, sarei ipocrita a dire il contrario poi domanda di Giuseppe che mi chiede quale aspetto dello studio del violino ti è piaciuto di più nei primi anni di formazione? quindi è difficile pensare la risposta allora escludo gli anni in cui ero bambina mamma ma che c'ho feca questo caffè escludo gli anni in cui ero proprio bambina perché secondo me non c'era la consapevolezza poi non mi piaceva tanto l'inzente con cui avevo a che fare quindi escluderei quella fase in cui era un po' più diciamo manovrata in senso positivo dai miei genitori mi concentrerai sui miei primi anni di formazione consapevole perché non so se l'ho già detto in altri video ma io c'è stato un periodo in cui ho litigato di brutto col violino quindi non ci siamo visti per un po' e non vedendoci per un po' io mi sono dedicata ad altre cose in quel periodo ho studiato canto eccetera però mi mancava il violino quindi poi ho ripreso con quella che è stata la mia insegnante che è stata anche la mia fortuna perché è stata la mia fortuna sotto tantissimi punti di vista mi ha fatto scoprire un sacco di cose mi ha fatto reinnamorare del violino insomma è stato forse quello il mio vero primo periodo di formazione concentrandomi su quello probabilmente la cosa che mi è piaciuta di più è stato il fatto di scoprire che con il violino potevo fare un sacco di cose che non credevo si potessero fare e questa cosa mi ha fatto sentire libera cioè quando ho capito che con il violino potevo fare anche delle cose che mi piacevano e non soltanto le cose che non mi piacevano questo mi ha fatto sentire molto libera e quella libertà di quella fase che era fatta comunque di studio anche di cose tecniche però il fatto che quelle cose tecniche fossero finalizzate a fare cose che fino a quel momento non sapevo si potessero fare con il violino e quindi scoprire tante cose nuove anche a livello proprio di ascolto di esecuzione insomma scoprire che c'erano tante possibilità nuove ecco quella è stata la fase in cui i primi anni di formazione vera e propria mi hanno fatto capire intanto in che direzione dovevo andare poi mi hanno fatto rinnamorare del violino e mi hanno fatto capire che quel litigio che avevo avuto con il violino dipendeva dal fatto che stavo seguendo una strada che non era la strada giusta per me e quindi questa cosa io cerco sempre di farla anche con i miei allievi oggi quindi non so magari uno viene a me e mi dice io studio questi brani perché voglio fare la violista classica ok io ti seguo, ti appoggio, ti supporto però nel frattempo ti faccio anche scoprire delle altre cose quindi tutti i miei allievi magari passano per la musica irrendese passano per la musica ebraica e così via perché è bello poi magari hai capito questa cosa la prendi e la metti nel tuo bagaglio e non la suoni più però devi sapere che puoi fare anche questo con il violino quindi insomma sono convinta che questa sia la risposta giusta spero che sia anche chiaro il senso di quello che stavo dicendo poi Elisabetta mi dice com'è possibile che suonare i miei disidrati? massimo ogni 5 minuti faccio pausa per bere allora da un punto di vista scientifico non ti so spiegare da che cosa possa dipendere ma ti posso dire che cosa succede a me nella mia esperienza personale o che cosa succedeva perché chiaramente oggi non studio come studiavo quando ero un'allieva e non un'insegnante mia madre si sorprendeva sempre del fatto che durante l'inverno io sono la persona più freddolosa del pianeta e come vi dicevo prima soffro molto il freddo durante l'inverno quando lei entrava in camera mi trovava in cannottiera a studiare violino in cannottiera mi diceva ma come è possibile tu sei sempre freddo sei sempre con 50.000 maglie e poi quando suoni sudi fare un'attività musicale come quella del violino è un'attività fisica a tutti gli effetti dico in particolare il violino ma credo che valga per tutti gli strumenti ma io sono esperta di violino quindi parlo di questo in particolare con il violino utilizziamo un sacco di muscoli poi con il violino noi siamo tutti storti quindi entra in campo una serie di fattori ora io non so se tu ti riferisci all'estate all'inverno o quello che sia però credo che come tutte le attività fisiche ci faccia bruciare e quindi la notte in cui bruciamo poi abbiamo bisogno di reintegrare quei liquidi tu mi dici ogni 5 minuti fai pausa per bere alla fine bere fa bene per cui di che ci preoccupiamo se ne hai bisogno hai questa esigenza vuol dire che evidentemente consumi tanto mentre suoni e il consumare tanto tra le altre cose non è soltanto una questione fisica ma è anche una questione mentale cioè il violino richiede il violino come tutti gli strumenti richiede una concentrazione e un'attenzione in termini proprio mentali molto molto importante e a volte ci capita questo l'avrete sicuramente notato di studiare o di suonare con la testa da un'altra parte la testa da un'altra parte è nemica della buona riuscita di quello che si sta facendo e quindi se vale questo per la buona riuscita figuriamoci quanto al contrario quindi quanto la buona concentrazione contribuisca a farci entrare dentro quello che stiamo facendo e quindi nel tuo caso Elisabetto bruciare liquidi nel mio caso per esempio a emanare calore e così via quindi io non mi preoccuperei insomma fino a che la conseguenza è solo che devi bere acqua va bene se ti dovesse venire in mente di bere altro potrebbe andare bene comunque chi lo sa chi sono io per impedirtelo e andiamo avanti questa è un'altra domanda di Andy94 che dice ti pesa mai fare lezione? c'è qualche allievo con cui ti stanchi o ti scocci e ti fa passare la voglia? sì sì ragazzi facciamo cadere questo mito per cui gli insegnanti soprattutto quelli che si vendono su youtube o sui social come faccio io siano tutti fantastici che bello fare lezione è fantastico come vi dicevo prima rispetto alla questione di avere un allievo preferito oppure no siamo esseri umani come tutti gli esseri umani proviamo le stesse sensazioni che provano tutti a me ha sempre fatto ridere non so se vi capita mai tipo sui social di vedere la foto della persona X sul posto di lavoro che dice fai il lavoro che ti piace non lavorerai neanche un giorno nella tua vita secondo me non è così io faccio un lavoro che mi piace da morire e che non cambierei con nessun altro lavoro al mondo però se dovessi scegliere tra lavorare e stare in vacanza ma scegliere di stare in vacanza ma tutta la vita se avessi la disponibilità economica e le possibilità in termini proprio di tempo di viaggiare per esempio tutto l'anno ma c'è bisogno di chiederlo ma è ovvio questo però non significa che il mio lavoro non mi piaccia il fatto poi che mi piaccia il mio lavoro non significa che mi debbano necessariamente stare simpatici tutti i miei allievi o che mi debbano stare simpatici tutti allo stesso modo purtroppo mi capita nel mio cammino di incontrare diversi allievi che sono sgradevoli e quindi questo comporta che io magari mi stufi quando debba fare lezione questo non significa che coscienziosamente io non mi ci impegno lo stesso anzi mi ci impegno probabilmente il doppio però succede credo che sia che sia inevitabile insomma soprattutto rispetto alla parte relativa alla stanchezza ci sono dei periodi in cui magari sono particolarmente stanca che ne so in prossimità in prossimità dei saggi per esempio e quindi fare lezione anche alla mia allieva preferita mi pesa comunque perché sono stanca ma credo che sia una cosa assolutamente umana che capita in tutti i mestieri non soltanto nel mio allievi che mi fanno passare la voglia sì ne ho perché ci sono degli allievi che sono magari mi viene in mente soprattutto i bambini i ragazzini ci sono degli allievi che sono oggi che sono molto maleducati che pensano di sapere tutto che pensano che sia una perdita di tempo fare violino e quindi perché viene a fare violino perché ti manda mamma non lo voglio fare io ma comunque mi scoccio quando ti danno queste risposte è ovvio che poi a me basta voglia di fare lezione poi lo faccio lo stesso anzi come dicevo ci metto il triplo dell'impegno però purtroppo tant'è a volte mi capita anche che forse è la cosa che mi piace di più di questo mestiere a oggi perché mi dà delle possibilità artistiche non solo artistiche più ampie è proprio il fatto di fare video non parlo solo di video di youtube ma fare video in generale anche registrazioni musicali video in cui suono eccetera e anche in quel settore spesso e volentieri non c'ho voglia può capitare come è capitato in questo periodo mi sono successe delle cose a livello familiare non ero non avevo la testa dovevo pensare ad altro e anche quando non avevo da pensare ad altro magari non avevo voglia perché non ero nel mood giusto e non ho girato video per esempio insomma esseri umani miki miki liki blink spero che l'ho detto giusto mi chiede i tuoi alunni hanno il tuo numero di cellulare sei sempre disponibile no i miei alunni non hanno il mio numero hanno uno dei miei numeri io ho due numeri di telefono due numeri di cellulare un numero privato personale che hanno soltanto le persone a me più vicine tipo i miei familiari i miei amici stretti eccetera che non uso per il lavoro e poi ho un secondo numero che è sempre mio personale ma che utilizzo soltanto per il lavoro quindi ce l'hanno alcuni dei miei alunni neanche tutti alcuni dei miei alunni alcuni dei genitori qualche collega eccetera però il mio numero personale non ce l'hanno i miei alunni per esempio quindi quando sono ce li ho sempre tutti e due con me però ad esempio quando sono fuori vado in vacanza porto per un viaggio eccetera nella maggior parte dei casi non me lo porto me lo porto se parto che ne so tipo vado a fare che ne so tre giorni fuori a marzo in mezzo all'anno magari può capitare che mi serva perché devo fare uno spostamento nella lezione eccetera quindi me lo porto dietro ma me lo porto dietro nel senso che è con me fisicamente in quel posto ma non è che se vado a fare una visita o vado al mare o che so io me lo porto dietro cioè magari è con me ma sta lì in albergo quindi non lo utilizzo la maggior parte però dei miei allievi hanno soltanto il riferimento della segreteria poi c'è qualcuno che magari perché allievo da tempo perché c'è una necessità legata che ne so il fatto che magari facciamo lezioni online devo inviare necessariamente io il link eccetera allora in quel caso do questo secondo numero di cellulare che però ripeto spesso non ho neanche con me quindi ce l'ho nella vita di tutti i giorni però appunto se sono fuori oppure tipo il sabato e la domenica non lo guardo nemmeno questo perché credo che sia importante separare le cose io ci ho messo un po' ad arrivarci però c'è stato un periodo della mia vita non so colleghi che magari per questioni scolastiche o direttori delle scuole che per questioni scolastiche mi scrivono alle 11 di sera quindi c'è stato un momento della mia vita in cui mi sono detto ok allora questo numero che hanno tutti diventa il numero di servizio quello proprio privato sarà un altro numero quindi ho un altro numero quindi capita spesso ma chi dei miei alunni ha il mio numero lo sa capita spesso che magari mi arriva un messaggio io rispondo tipo due giorni dopo tre giorni dopo magari per esempio adesso sono stata sono stata in Austria e avevo dietro questo numero ma non lo guardavo mai quindi l'ho lasciato in albergo e rimasto nella cassaforza dell'albergo l'ho ripreso tipo l'ultimo giorno quindi ce l'avevo giusto così per emergenza la sera controllavo ma se magari c'erano messaggi in cui mi dicevano allora a che ora facciamo lezione è sabato è domenica scrive alla segreteria non se c'è la necessità ecco non so se se mi sono spiegata è una cosa che ritengo necessaria per una questione di vita di serenità di vita quotidiana allora user 96 trattino basso 41 bla 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 scrive cosa pensa la tua famiglia del tuo lavoro e di youtube sono tutti molto felici di quello che faccio quando ho finito la scuola e ho detto voglio fare la musicista c'è stato un attimo di oh calma parliamo e ne pensiamoci infatti per un periodo mi sono anche iscritta all'università alla giurisprudenza nel caso specifico poi ho lasciato mi sono iscritta ad altro ho fatto delle cose musicali e ci è voluto però del tempo perché questa cosa che volevo concentrarmi al 100% sulla musica fosse capita non perché non la rispettassero ma perché temevano che potessi riuscire in questo lavoro con difficoltà poi diciamo che hanno capito che quella era la mia strada quindi ho lasciato giurisprudenza mi sono dedicata al conservatorio ho finito il conservatorio quindi tra l'altro ho finito con con la nuova dopo la riforma quindi è una laurea a tutti gli effetti poi mi sono iscritta anche a musicoterapia mi sono laureata anche a musicoterapia insomma sono molto felici di quello che è successo hanno avuto per un periodo un po' di di ansia dettato dal fatto che io ho scelto di non mettermi in gradutoria ma di aprire la partita IVA e di lavorare la libera professionista perché dicono vabbè ma la sicurezza nella vita ci vogliono le sicurezze e capisco il loro punto di vista però dall'altro lato io sono molto più felice così perché posso fare tutte le cose che mi piacciono quando voglio e come voglio e adesso lo capiscono un pochino di più di youtube sono contenti nel senso che ci hanno messo un po' a capire che cosa fosse come funzionasse poi si sono iscritti al canale sanno che è una cosa alla quale dedico del tempo adesso cominciano a capire ancora di più quanto tempo ci dedichi perché come sapete il canale è stato monetizzato ci sono gli abbonamenti insomma sono successo una serie di cose per cui sta diventando una cosa concreta e anche se è concreta pochissimo perché per il momento veramente i quadrani sono irrisori però è una cosa che comunque fa dà un senso a quello che faccio e quindi loro approvano assolutamente non so fino a che punto hanno capito quanto stia andando bene questa cosa ma credo che con il tempo la capiranno la capiranno sempre di più perché grazie a voi il canale è sempre più in crescita quindi insomma credo che darò soddisfazioni ulteriori poi Cili di Verbang scrive che ne pensi dei recuperi delle lezioni sei pro o contro allora come massima come concetto proprio generale sono contraria però io credo che nella vita servo elasticità quindi io sono quella che insiste nelle varie strutture in cui lavoro per specificare che non si recuperano gli incontri persi però poi li faccio recuperare quindi voi mi direte ma sei matta? No è che faccio faccio un ragionamento molto semplice e cioè se ho la possibilità di fare il recupero e facciamo il recupero è una cosa che faccio perché è un gesto di gentilezza non deve diventare una cosa scontata numero uno perché poi è un attimo approfittarsene e numero due cosa ancora più importante la regola ci deve essere perché è importante che le persone capiscano che non ci si può marciare su questa cosa lo dico perché purtroppo ho avuto questa esperienza cioè chi ha la tendenza ad assentarsi a non avvisare ad avvisare all'ultimo minuto eccetera deve imparare intanto che c'è il rispetto per cui se tu mi avvisi alle 7 e 10 che non farei lezione e la lezione era alle 7 devi capire che io comunque quel tempo l'ho dedicato a te e non lo posso recuperare in altro modo quindi è anche giusto che tu paghi per quel tempo e poi è importante che capisca che non può diventare un'abitudine oggi sono le persone che vengono sempre a lezione e si assentano una volta se mi avvisano 5 minuti prima non me ne frega niente perché capisco che c'è effettivamente una reale emergenza ma a me è capitato anche che mi chiamassero dal matrimonio scusa mi sono dimenticata di dirti che la bambina oggi non può venire a lezione perché siamo a un matrimonio ma la lezione della bambina è da 3 ore fa e poi magari quella bambina è una bambina che guarda un po' il caso fa 3 assenze al mese ho un conto che ti debba far recuperare una lezione ogni tanto un conto che ti devo far recuperare 3 lezioni su 4 ogni mese diventa un problema diventa un problema perché poi c'è anche l'esigenza di recuperare quando dico io come dico io agli orari che dico io alle mie condizioni quindi in generale alla luce di tutto questo io sono contraria però sono una persona estremamente elastica per cui per esempio chi fa lezione con me sa che nel regolamento della scuola c'è scritto che le lezioni perse non si recuperano le lezioni perse dagli allievi non si recuperano però sfido uno qualsiasi dei miei allievi che stanno sicuramente guardando questo video a scrivere qui sotto ma tu non mi hai fatto recuperare la lezione tutti hanno sempre recuperato perché sono tutte persone estremamente corrette poi certo può capitare che magari in un mese ci sentino come dicevo prima tre volte perché ci sono delle esigenze particolari e me lo dicono prima che tre le lezioni per recuperare sono difficili massima disponibilità magari il mese dopo ne facciamo cinque il mese successivo ne facciamo di nuovo cinque più di questo non si può fare però sempre massima disponibilità quando c'è rispetto reciproco perché questa cosa per me è fondamentale assolutamente fondamentale invece al contrario recupero sempre le lezioni che lei le levi perdono per colpa mia perché comunque il fatto che mi assenti io che significa che paghi lo stesso non avrebbe non avrebbe senso anche in quel caso mi piacerebbe che ci fosse elasticità non dico nel contesto delle lezioni individuali di strumento però ci sono dei contesti in cui secondo me l'elasticità dovrebbe essere reciproca vi faccio proprio un esempio scemissimo ma che rende l'idea qualche anno fa facevo un progetto di musica in una scuola in cui i bambini pagavano cinque euro al mese per quattro incontri perché erano collettivi quindi c'erano tanti bambini insieme cinque euro al mese cioè significa un euro e venticinque a lezione e siccome era un progetto in cui non ero io ad organizzarlo ma una delle scuole in cui insegnavo aveva fatto questa convenzione con questa scuola primaria si era stabilito che io andavo in questa scuola adesso non ricordo il giorno diciamo tipo tutti i mercoledì del mese quindi succedeva che a volte c'erano tipo cinque mercoledì in un mese quindi io andavo cinque volte nel caso specifico questa cosa è successa dopo nel 2021 io vado a febbraio faccio cinque lezioni vado a marzo faccio cinque lezioni quindi loro in due mesi hanno fatto dieci lezioni pagando comunque cinque euro quindi un euro in lezione ad aprile io prendo il covid e salto una settimana una sola settimana solo una rappresentante di classe però di tante classi mi scrive dicendomi quindi che facciamo portiamo quattro euro anziché cinque e io in quel caso io va bene cioè nel senso capisco che tu voglia pagare di meno perché ho fatto una lezione però mi viene a dire questa cosa di togliere un euro un euro non cinquanta euro un euro vuoi togliere un euro dopo che per due mesi io ti ho fatto dieci lezioni anziché quattro per una volta che mi assento io ecco in quel caso mi sarebbe piaciuto che ci fosse un po' di elasticità reciproca e quindi a volte bisogna essere un po' severi un po' rigidi nelle cose scritte in modo tale che tu sai che qua c'è scritta sta cosa e tu la stai accettando all'inizio del percorso infatti anche chi è scritto le mie lezioni online accetta un regolamento che è il regolamento interno della scuola non ci sono se non ci sono ma quello del regolamento punto e basta poi ovviamente ci vuole elasticità nelle cose io cerco sempre di essere molto elastica laddove è possibile però sempre nel rispetto reciproco ultima domanda ti capita mai di distrarti durante le lezioni questa la fa Andrea sì ragazzi e questo è lo stesso discorso di prima ti scocci con gli allievi hai l'allievo preferito sono sempre un essere umano ovviamente cerco di stare sempre attenta a tutto ma può capitare che magari che ne so vedo che si illumina il telefono perché mi arriva un messaggio e mi distrago un attimo oppure ho quella che definisco la bottare dall'assenza cioè un attimo un pensiero per cui ho quella ma sono cose di mezzo secondo per il resto cerco sempre di essere di essere presente a me stessa ma può capitare sono un essere umano penso che capita anche agli allievi mentre fanno lezione di distrarsi se avete visto gli shorts quelli ironici sui tipi di allievi c'è anche l'allievo che rimane incantato mezzo l'ora e dice scusami se non pagato succede a tutti siamo umani penso che sia una cosa sulla quale si può sulla quale si può soltanto ridere insomma va bene credo di aver risposto ampiamente a tutte queste domande ce ne sono altre due che riguardano il mio libro quindi un po' perché non c'entrano nello specifico con questo argomento un po' perché appunto come vi dicevo mi fa anche piacere fare un video esclusivo per gli abbonati non risponderò in questo contesto ma risponderò appunto in un video dedicato soltanto agli abbonati alla fascia Giovane Padamon e approfitto di questo per invitarvi ad abbonarvi al canale stiamo diventando tantissimi per un canale così piccolo quindi sono contentissima infatti a breve uscirà anche un video che già ho girato uscirà anche un video di ringraziamento a proposito degli abbonamenti quindi sono sono tanto felice di come stia andando ma mi piacerebbe che diventassimo sempre più perché per voi è un piccolo gesto ma supporta tantissimo il canale e quindi possiamo fare un sacco di cose poi c'è un sacco di idee per quest'anno quindi succederanno cose belle va bene vi anticipo che è il primo Q&A di ottobre perché continueremo con un Q&A al mese che sarà ogni secondo martedì del mese quindi questo primo nuovo Q&A a ottobre tratterà l'argomento il mio nuovo libro per cui qui sotto nei commenti riempitemi di domande sul nuovo libro perché insomma è bellissimo poi comunque ne parleremo meglio anche giovedì in live detto questo basta direi che questo video è durato abbastanza vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui vi ringrazio anche Snoopy che sta dormendo c'è proprio che tipo muove le zampe rotte agli occhi al meglio sonno come si suol dire ci vediamo giovedì in live e ci vediamo in questi giorni con un nuovo video vi mando un bacio studiate altrimenti vi sconoccio e che la musica sia con voi sempre ciao vi ringrazio per aver guardato